No, sono allenamenti duri, come diciamo tutti gli allenamenti, quindi noi diamo il massimo, corriamo e cerchiamo di migliorare. Come diciamo in tutte le squadre forti c'è sempre concorrenza, sia in attacco, centro campo, in difesa, quindi io lavorerò, cercherò di dare il massimo, di apprendere dal nuovo allenatore e per il resto va da sé. No, sicuramente il lavoro è un lavoro importante, stiamo cercando di capire i meccanismi di gioco e tutto e speriamo di riuscire a entrare subito nell'ottica del gioco del mister. Io ho giocato sia 4-3-3 sia trequartista, quindi quello poco importa, l'importante comunque è sempre dare il massimo e cercare di stare sempre bene. Ogni domenica noi dobbiamo cercare di andare in campo per vincere, quindi daremo il massimo e speriamo di portare a casa i tre punti.